Grazie anche a Stefano Pistolini che è l'autore del film che mi piace subire Il film è un amico e un'altra domanda Il film è... Mi piace questo film perché non è un film della mia storia personali Non è un film della mia musica È solo un film È solo un film di un sounder O un artiste sounder È solo un paese È solo un film di un film che mi piace Il film è importante Il film del film non è discrivire qualcosa di particolare È solo un po' di tempo in mio tempo Generale, io trovo la collina, c'è stata la notte, truccare l'assassina, e in mezzo a travi e alla montella, uno da su, tra lontano, sembrava una bambina, di cinquant'anni e cinque figli, lei utile al mondo come conini, partiti al mondo come soldati, e non hai ancora tornati. Generale, io trovo la stazione, dovevi il treno portato al sole, non fa più fermare, neanche per pisciare, si metto dritti a casa, senza più pensare, che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare, e a farci fare l'amore, l'amore, dalle infermieri. Generale, la guerra è finita, viene vinto e scappato, è vinto un battuto, dietro la collina, non c'è più nessuno, solo agli pibini, silenzio, profughi, vuoi da mangiare, vuoi da seccare, la pace è il sugo, quando viene Natale, quando i bambini piangono e andrò via, non ci vogliono andare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.